Quando prenoti il tuo viaggio, affidati a Blue Coral Vacanze. Entra nel colorato mondo Blue Coral Vacanze. Crea con noi la tua vacanza ideale. Blue Coral Vacanze, in corso Vittorio Emanuele 160-162 a Sciacca. Sono da poco trascorse le 15 e questo è uno dei due punti vaccinali di Sciacca. Come vedete alle mie spalle ci sono tante persone in questo momento, sono in attesa di poter avere la somministrazione del vaccino, ma si procede celermente. Ormai sperimentate le squadre, tutta l'organizzazione di gestione della somministrazione del vaccino e soprattutto, come ci ha anche confermato Marta Craparo, una delle infermiere che fa parte dei team che si occupano proprio dell'inoculazione, c'è tantissima voglia da parte delle persone di vaccinarsi. Tutto questo è possibile, uno perché c'è la disponibilità adesso dei vaccini e quindi si può andare più celermente con un ritmo più sostenuto e due, soprattutto le persone hanno capito che la vaccinazione è fondamentale per mettere alle spalle l'incubo della pandemia. Marta Craparo, fuori da questo punto vaccinale c'è veramente tantissima gente. Rispetto alle immagini che abbiamo visto nei giorni scorsi dove ci voleva l'open day per richiamare le persone, adesso sembra tutto un altro scenario. Sì, assolutamente, la gente sta rispondendo e tutto questo è positivo. Abbiamo fatto dei grossi numeri in questo periodo, fino a ieri 277 fra vaccinazioni con Moderna, AstraZeneca e Pfizer. Abbiamo iniziato con i richiami di AstraZeneca per il personale scolastico, i vigili urbani, poi abbiamo i vigili del fuoco, il personale del commissariato. E devo dire che stiamo andando alla grande, ecco. Sicuramente c'è tanta voglia, la gente forse adesso ha recepito più che mai che è necessario vaccinarsi proprio per voltare pagina. Sì, assolutamente, la gente si vuole vaccinare perché vuole uscire da questa situazione, vuole uscire da questo incubo. La gente vuole andare anche a trovare i figli fuori, perché spesso mi dicono è da due anni che non vedo i miei figli che sono fuori, che lavorano fuori. E quindi tutto questo a noi ci rincuora, anche perché si sente dalle notizie che, diciamo, anche l'Italia stiamo uscendo e abbiamo un effetto positivo per quanto riguarda le vaccinazioni. Quindi si sono ridotti, a quanto pare, i contagi e tutto. E speriamo sempre in bene, speriamo sempre di andare avanti e continuare. In queste giornate che voi state trascorrendo, da quando è iniziata la campagna vaccinale, le è capitato davvero qualche caso di qualche persona che si è sottoposta al vaccino, che gli ha raccontato qualcosa di particolare, una cosa vissuta, che le ha fatto anche lei emozionare, perché lei è molto abituata, insomma, a fare il suo lavoro, immagino, però l'è successo? Diciamo che il fatto di sentire le persone quando stanno distanti dai loro figli. Questo sì, sono mamma, quindi posso capire quando una mamma è da due anni che non vede i figli, perché sono fuori, perché sono a Milano e hanno vissuto anche loro quest'incubo. E il fatto di doverli andare a trovare e prepararsi è una grande soddisfazione. Diciamo che, insomma, quell'ago è stato infilato con maggiore... Assolutamente sì, hanno ricevuto il vaccino con grande soddisfazione. Contenti di averlo fatto.